Ti ricordo che se ti piacciono la Kaizo, Aeromone e altri contenuti a tema Pokémon, mi trovi in live tutti i giorni dalle 14 in poi sul mio canale Twitch. Primo link in descrizione. Avete fatto qualcosa di bello questo weekend o avete giocato alla Kaizo V? Mi auguro che siate usciti. Onestamente per la vostra sanità mentale e la vostra vita sociale. Va l'autoflab. Io sono del 98 e tipo uscire di che tipo se vado a dormire alle 4 mi ritrovo catapultato in un altro metaverso. Oh, c'è il fisico, mettila così. Mamma mia che schifo. Ho visto le mosse ho detto ma vedi che... Proviamo a scautare. Twin Needle. Aspetta. Aspetta. Simple Meditate è bannato o no? Raga, se faccio Meditate al posto di far più uno fa più due. Praticamente ho Danza Spada. Io la proverei. Per la scienza. Sì, Danza Spada è più 4. Alla fine basta un Meditate e ti sei già raddoppiato. Cioè praticamente se fai un Meditate hai huge power. Con Sword Dance sarebbe Legit. Penso di sì. Quindi quant'è che arriviamo di attacco al massimo giusto per... a titolo informativo? Arriviamo a 64. Fa più uno in attacco però. Vabbè, lo faccio per la scienza io. Io lo faccio giusto per la scienza. Mind Reader. No, grazie. Ehi amico, fermati un secondo. Il 96% degli utenti che guarda i miei video non è iscritto al mio canale. Quindi rimedia subito, iscriviti e continua a goderti il video. Simple e Legit, quindi faccio il cazzo che voglio. Rimperius. Anno 2024. 14,52. Allora, Meditate. Meditate. Ok. Ciao Fede! Com'è? Buona run veramente esotica questa. Cioè il fatto è che dobbiamo riuscire a setappare, se no. Io voglio arrivare alla grotta con Mac. Obiettivo grotta con Mac. Arrivare alla grotta con Mac sarebbe un bel traguardo. Cazzo avessimo la natura, non ti dico verde, ma non rossa su attacco fisico. Sarebbe stato very interesting. Sì, sì, ovvio che sarebbe più forte Bull Cup. Perché dici, hai jump kick, cadi. E lì sono cazzi tuoi. No, più che hai jump kick il problema è se ti confondi, mi sa, sottomedite. Muscle Feater è più uno in attacco, però stai fermo. Stai fermo. World Cup. Oddio, lo special attacco al momento non serve, però. In visioni future, sì. Io ho paura di fare jump kick, farò crab hammer. Attaccherò per un po' è. Io stremmo sempre dalle 14, fede. Low kick, godo. Ma vai... Ma sempre le cavaglio da un'altra parte, fede. Gucci. No, no, qua servirebbe... Coil o Bull Cup, qua sarebbero la vera hit. La vera hit, Coil e Bull Cup. E qua però devo attaccarlo, mi fa male boia questo. Penso che pesi anche... Non ci credo. Ma io posso togliermi... Io farò così. Sveglia. Ok. Eh, minchia rimpe, però li devi rollare un bel 10%. Mumu Milk. Godo. Li devi fare un bel roll. Però sì, fondamentalmente... Oh, Godo. Fai protect di nuovo. Lui rifà protect adesso. Non fa protect. Ah, quello del pollo. Cazzo, judgment è fortissima. Però non fa coverage. È una bella setup sullo special. Lucky. Due Mumu Milk. Ma una bacca stupida, no. Sai che dobbiamo tirare il Mumu Milk. Cos'è questo? Ok. No, per l'ultimo Mumu Milk va tirato. Aspetta che magari troviamo una pozza più piccola, una bacca. Interessante. Ice? No, Mumu Milk me lo devo tirare. Mumu Milk per forza qua. Perché devo setappare io. Ok. E da Brock ci si arriva. Brock, Petra, come cazzo si chiama. Il primo piccione fa Sleep Powder. Non userò il Full Rest. Non userò il Full Rest. Sicuramente su Bravery che fa la polverina che ti fa andare a letto. Ok. Vai. Night Slash. Eh? Hai retto too much per i miei gusti, my friends. Last one. Beta è pesi tanto. E low kick è un'ottima mossa. Le sgoschi. Beta attiva per Petra. Manca poco. Iniziamo a posizionarci sul primo opponent. Buona fortuna. Serperior. Wish. Ci sta? Sludge. L'accetto. Vai. Mossa. Slam. Dio, forse Slam la impara veramente quel Pokémon qua nei giochi. È lore. Potrebbe essere della lore. Meditate. Vediamo se gli facciamo del danno. Dryskin. Vabbè. Sto zitto che è meglio. I prefer to not speak in this, in this moment. Bella T.A. Allora. La... Sì. Se tappiamo sul primo che è stupido e ci fa fare meditate tre volte, si gode. Drizzle. Apprezzo. Glaciate fa quattro... Eh, ci droppa la speed per due. Ok. Ancora uno, ti prego. Lick. Non ci ha parrato. Proviamoci. Drain Punch. Lo accettiamo. Charizard. Ok. Sotto Drizzle per di più. Octillery. Knight Slash. Lui missa. Vai. Allora, in questo caso ti dico che la Sodapop la potrei anche usare. Per essere sicuro abbastanza di farmi sta palestra. Guardiamo. Guardiamo. Madonna, non hanno mosse questi. Air Sarcofago. E infine abbiamo Pol. P-O-L-Ipsilon. Po-Li. Niente, ho buttato la Sodapop oltretutto in realtà. Però, con 30 di speed magari capita qualcuno che ti fa un earthquake antipatico e potresti andare al creatore. Comunque, TM39, Avalanche. No priority move. La lasceremo lì. Allora, spero. Ora c'è... È vera un bel dito in culo di solito. Dipende sempre anche lei se ci dà la possibilità di setupare. Tipo, se becchiamo un Paris Song moriamo male. Ok, due penso bastino. Uno. E Night Slash per forza. Ancora meditate. Ok. È vera battuta, easy. Minchia, qua servirebbe, non ti dico, il full... Muscle Feater, God, un altro... Abbiamo già beccato tre più uno in attacco con le vitamine, eh. Tanta roba. Proviamo. Allora, Repel. Portameli qua. Primo Monk... Eh, io provo ad attaccarlo senza setupare. Ok. No damage il primo. Allora, come sempre, prima ti apri la strada con un Pokémon del genere. Questo reggeva. Però dai, due ci stanno. Grazie, Thomas, per il follo. Allora... Chi è questo? Porca trota, qua almeno uno lo devi fare. Vabbè, anche due. Ah no, mi ha fatto lui meditate. Dai che c'è Wick Armor, lo stecco. Bella Girotti. Roost. È bannata, non la imparerai. Paralizzi il buono. Item. Vai. Ornite Slash non è vero che è Super F. Eh, questo va in alto. Non parrarmi, ok. Crit godo. Lui pesa tanto, secondo me. Sì, godo. Allora, al 30 ci siamo. Ti dico, 31 uscire qua è l'ideale. Però... Vediamo cosa propone la casa anche. Arm Trust. Minchia, ma che bel Pokémon da trastare questo. Spoink. Aftermath. GG. GG. Con Aftermath lo prendiamo proprio nel posto peggiore di tutti. Cioè, oddio, peggiore. Beh, non garba, però. Rock Tomb. Oddio, ha fatto un discreto damage, posso dire. Petalodance. Mmm. Cycle full clear ti dico di no, ma ancora... Allora, proverei a fare quello là che copre lo strumento, almeno. Cioè, proverei a ballarmi lo strumento. Infernape. Fai un meditate, almeno. Sleep Powder miss. Uno andato. Usciamo al 31 puliti? Vai. Proviamoci. Low kick per 4. Meditate. Più che per te, mi serve per il Pokémon dopo sto meditate, onestamente. Per il Galvantula col sole. Bella Pupo. Vabbè. Prima cura andata. Prima cura se ne va così. Piccolo Endeavor di Galvant. V Create. Grazie, ma ti dicono. Ok. Bella Davide. No, Venus è un ranno rimosso dal gioco, corra. È diverso. Sì, ma V Create ti droppa la vita, non ha tanto senso come mossa, onestamente. Overheat missata. Bounce. Eh, boh, fai un altro meditate. Eh, mi sa che anche l'Iperpozza ci saluta a breve, eh. Ho questa sensazione. Questo quanti ne ha due? Fai un meditate sul piccione. Dark Pulse. Lui ha Speed Boost. Boh, fallo. Krabhammer non l'ho ancora usato. Ho fatto Netslash, vabbè. Iguale lo stesso. Ecco, qua fai Krabhammer invece. Crit 33. E ci siamo. Bacca non è stata bruciata. Bruciata, cura, andrebbe tirata. Andiamo. Dimmi che il primo è stupido e mi fa setappare. Seed Flair. Ok. Absorb. Ok. Absorb, ok. Vai. Uno. Sono sei in totale. Due. No, porca troia. Devo togliermi almeno la para. Trump Card. Tre. Lui. Quattro col crit va bene. Che è il quinto? Krabhammer. Quinto. Ultimo ma non per importanza. Boom. TM numero 08. Vediamo se è davvero Bull Cup come il gioco vero. Brave Bird. Peccato per il recoil. Ma ci sta. Ho curato io. Madò, questo qua mi stecca. Ecco, questo non è sim... Mamma mia, Skarmory, che dito in culo. Bolt Strike. No damage, va bene. Cazzo. Calma, non buttiamo cure. Non si buttano le cure, amico. Vai, proviamoci. Oh, c'è una per quattro subito. Io almeno uno me lo... Anche due me li tiro la grande. Tiro anche tre. E andiamo... E andiamo in tranquillità, oserei dire. Vorrei andare tranquillo. Lui però pesa tanto. Ok. 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 Ok, questo era un punto cruciale del videogame. Gran fortuna. Allora, battiamo questo e possiamo fare il cambio in grotta? No, perché non ci dà exp. Dai, ci darà abbastanza exp, mi auguro. Vamo! No. 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 È così sei infame. Via, Krabammer. Low kick tocca tutti i Pokémon grossi. È troppo forte, davvero. Hai più coverage senza Night Slash. Night Slash è 100 di acura. Sei critreti o cover su... Vabbè, cover su Shedinger è in realtà anche Acrobatics. Quindi non è un problema. Ma! Calmiamoci un attimo. Ora c'è la grotta. Allora, inizia ad attivare il repel. Diminuiamo la velocità del videogame. Mettiamo un goloso 3. E andiamo a caccia. Andiamo a caccia in questa grotta. Vai, vai, gira, Harry. Grazie a te, Gabbo! Un bacione per gli otto mesi. Non so se hai sentito. Ho letto, eh. Grazie, King. Dimmi col Magmarizer. Merda. Allora, io onestamente un Meditate per vedere lo faccio. Scoutino. Meditate. Fury Attack. O7. O7. Moody e Banna... Oddio, in realtà potremmo cercarlo senza Moody? Ne ha tre in realtà. Vabbè, scopriamolo. Eh, non fa un brutto danno fisico. Questo non ha Moody, per esempio. Io ti dico, catturalo e poi vediamo. Da, minchia, ma che mosse di merda. Fury Attack. Camnesia Double Team. Cioè, parliamoci chiaro. Oh, se mi critta son morto io. No, no, via, via, via. O7 Magmar, non ha neanche le mosse. La sfiga, Mo, è che non mi posso tenere le bacche, perché c'ho Acrobatics e... È letteralmente la mossa più forte del gioco fisica, tipo. Vai. Cazzo, 5 trainer, così son tanti, eh. Sì. Ok, primo fatto, bene. Allora, asciugle. Lovely Kiss. Guardiamo. Flash Cannon. Me lo po' collo. Tecno Blast me lo ho collo. Sì, svegliati però. Night Slash. Acrobatics è 110 di potenza se non è un item assegnato, certo. È per due. Bella, tuono. Guarda che cazzo di Pokémon atipico sto trastando. No, raga, si è incastrato a nel joystick. Grazie, dai, per il secondo. È entrato tuono a gufare, GG, porca troia. No. GG. Ehi, Jack Murcrow. Rain Dance. No, raga, si è incastrato a nel joystick. Cos'è che ha fatto? Raga, si è incastrato a... Grazie a Luca Altena, detto Thunder, per il quarto mese. Ciao, beh. È qua, prendo il cazzo, io mi sa. Che reggo. Ma poi ho le cure io, in realtà. Quindi stick... Il order non la imparerò. Ok. Eh, però sono troppo boostato, devo steccare qua. Cos'è che ha lui? Blue Flare. Eh, mi sa che l'hyper pozza qua, vola, perché che cazzo ho? Fresh water e po... No, dai, hyper, devo tirarmela per forza qua. Close combat. Dai che si è droppato la difesa sto rincoglionito. Godo. È 580, tuono è... È... È 580. Ritiro quello che ho detto. Stai zitto, dai. So dove abito e ti vengo a prendere a casa. Vabbè, se il crit fa quella roba lì, me lo accollo. Eh, sono un po' bebiato nel cervello oggi. Quando giochi tanto alla Kaizo è normale. Che strano però, scusa, che gli altri due... Perché... Sarebbe da verificare sta roba. Oh. Il Mac? Il Mac fa segno di Lucatoni e fa... Non ti sento. Allora, TM34, non saprei che mossa vorrei. Boh. Eh, ah no, Sword Dance. Nooo, speriamo non siano in vita. Io la bet su questo dungeon non la faccio perché... Questo qua ti manda al creatore di solito. Questo qua ti incula sempre. Questo qua ti fotte. Quel dungeon qua è la... Cos'è che ha fatto? Alli Switch. Bella per lui. Ah, quindi ora ha wheezing davvero però. Viene slash. Ecco, risparmi e pipì. Bravo Alessandro Presta. Avalanche è ebol. Avalanche non la insegnerò perché è priority negativa, onestamente. Questo qua è da far subito. E... Ok. Godo è un full heal sta roba. Frost, Brett... Vabbè, tanto non si può insegnare. Quindi sti cazzi. Onestamente secondo me è la roba che fotte sto mone se uno c'ha tanti Pokémon e ci fa Perish Song. Poi il resto ti dico, ti devo dire, vi devo dire, vi devo dire. Manco male, eh. Cosa cambia da Meditate a Sword Dance? Meditate con Simple fa da 1 diventa 2. Sword Dance da 2 diventa 4. Quindi se faccio uno Sword Dance è come fare 2 Meditate. Tu calcola Simple ogni cambio di statistica per 2. Intimidate meno 2. E... Boh, è tutto quello che... Porca troia! Sto fatto male. Questo l'avevano steccato prima. Pure questo. Bella Mizza! Com'è? Allora, in realtà mancano il Montagnino e il Pescatore. Proviamo. Il Candelabro. Vabbè, oddio, se ci fa una mossa a veleno mi fa godere in realtà. Eh? Eh? Cos'è che regge? Mac Godman. I paroloni li userei da altre parti, eh. Godman non è un termine ammesso in questa stream. Meditate. Frost Breath critta sempre. E se quello è il crit va bene. Aia, 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 aia. Crobatics. Full clear. Qua quanti item ci sono? Cinque. Beh, cinque. Poi ce ne sono tipo altri quattro dopo. Se pigliamo una cura buona, qua ti dico che la quarta palestra si scamma easy. E fu così che morì nel dungeon. Brick Break. L'accetto. Ok. Ho fatto Acrobatics, va bene. Piano. Beh, questo lo possiamo fare. Facciamo prima quelli per gli item che mi interessano di più. Seed Flare. Ma non la voleva imparare anche a livelli più bassi o? No, secondo me la voleva imparare anche un po'. Boh. Un bebiato. Allora, vai piano. Piano. Matteo D'Armian. Azz, con la stab. Certo, adesso levo Meditate, sicuramente. Purtroppo non mi chiamo HunterWolf18, se no l'avrei fatto. Ok. Cioè, tu pensa che rincoglionito che sono che c'ho una mossa che non fa danno e la tengo pure. Cioè, tu pensa che è stupido. Tenere una mossa che non fa danno nel 2024 nella Kaizo V. Veramente top 3 rincoglioniti che la gioca? Non mi viene da dire. Viva il Dustox. Però viva il Dustox potrebbe burnarmi, quindi steccalo. Ci manca il Pescatore ed è full clear. Ebbè, penso il ragionamento di chiunque, Spadoi, se c'è... Quando c'è... Orca Troia! E qua serve un Meditate prima... Porca Troia! E inizia ad attaccarlo qua. Ok. Mamma mia, mi son cacato sotto. Ultimo. Godo, full clear. Vamo. Lo stai dicendo? Dai, ma sei... Sei flippato. Bella Albi. Eh, Stomach... Stomach è esotico. Eh, Gabbo, ora che hai detto questa qua, perché esploderò? Dopo che hai spittato sto Factos, probabilmente esplodo. Mamma mia, no, eh. Ok, morire da tutti, ma non da Kingler. Vabbè, che tanto quello là sta facendo i pomeriggi a scuola, non può rompere il cazzo in chat, eh. Ok. Conta che ho anche balzato due... Porca Troia! Conta che ho balzato due trainer nel primo dungeon, io. Nel primo dungeon ho balzato il montagnino in alto e la tipa nella piscina. Sostituto. Levaglielo subito. No! Devo steccarla. Eh, devo dargli la Roastberry, che tanto se no non la userò mai con Acrobatics. Aspetta che questi... No, mi ha tolto Simple. Fermo. E questo mi incula. Ok. 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 Questo qua c'è i Pokémon alti, eh. Questo qua c'è i Pokémon alti. Se il primo ci fa setappare, ok. E chi cazzo l'ha mai visto, Claydol? Chi cazzo l'ha mai visto, Claydol? Con la Stub Super F. Ancora uno lo faccio io. Ok. Vai. Non avevo cure. Non avevo cure. Avevo la Freshwater da 50. Eh, GG. Come ogni bella storia ha un lieto fine. Brutto o bello che sia. No, un lieto è sempre bello, però. A Bistart. A Bistart. A Bistart.